Giovanni Riviecio, responsabile dell'associazione Chiamami per nome, in programma a breve un'inaugurazione di una nuova struttura, di nuovi spazi che vi consentiranno di offrire ai vostri ragazzi nuove possibilità, nuove attività. Noi abbiamo preso questa casetta, una casa indipendente, proprio per ampliare tutte le attività che finora abbiamo fatto leggermente in piccolo. La nostra associazione è nata quattro anni fa, però soltanto due anni e mezzo fa abbiamo dato una svolta per riconoscimento da parte della Regione Campania. Quindi siamo diventati ODB. Siamo nati grazie al supporto e all'aiuto totale del professor Aldo Riviecio, che inizialmente ci è stato sempre molto vicino, e padre Mario Folliero, che è nel parroco della chiesa di San Antonio, che hanno creduto tutti a questo progetto e quindi automaticamente ci siamo mossi affinché la popolazione e soprattutto i genitori di dei vestimenti abili avessero un beneficio. Quali sono le attività che i ragazzi fanno in associazione? Allora, incominciamo dalle attività primarie, che sono l'autonomia, il teatro. Queste sono le due attività primarie, ma non sono secondarie le altre attività. Le attività di pittura, l'attività creativa, le attività di laboratorio di cucina. Tutti i genitori hanno notato un netto miglioramento comportamentale da parte dei ragazzi. Infatti, col maltempo, beltempo, diluvio universale, tra virgolette, vengono, vogliono venire. E questa è la nostra gioia, che loro vogliono venire. Quando si farà questa inaugurazione e dove si trova questa struttura? Allora, la struttura si trova a Via Nazionale 408. Abbiamo programmato che si dovrà fare per il venerdì prossimo, però, visto forse le avverse condizioni meteo, trasleremo al giorno successivo, che porterebbe bel tempo. Ovviamente, avviseremo noi con un buon margine di tempo quando ci sarà effettivamente questa inaugurazione. Abbiamo trovato questa casetta dove i ragazzi potessero fare queste prime esperienze di vita comunitaria, di gestione della casa, piccoli obiettivi che potessero renderli competenti. In questa casa noi faremo attività di socializzazione, stimolazione cognitiva, gestione della casa, gestione della spesa. I ragazzi dovranno capire che per mangiare, per cucinare, dovranno fare la spesa, la gestione degli ambienti comuni. Siamo partiti quindi da un progetto iniziale dove i ragazzi andranno a vivere in un centro diurno quasi, per poi successivamente chi raggiungerà determinati obiettivi potrà fare anche la giornata completa, oppure, avevamo pensato anche poi chi sarà in grado di poterlo fare, di fare piccoli weekend in piccoli gruppi. Quindi è un percorso a step? Abbiamo pensato a tre piccoli step dove i ragazzi verranno inseriti inizialmente in questo percorso, con una progettazione educativa individuale, riusciremo comunque ad individuare chi ha raggiunto i primi obiettivi, e poi un terzo step dove i ragazzi proprio faranno esperienza di vita reale che non gli è permesso alla fine di poterlo fare nelle famiglie o in altre strutture. Rosalba Bernice, educatrice teatrale, lei segue i ragazzi appunto in queste attività teatrali, com'è spiegare loro il teatro? Il nostro laboratorio teatrale si avvale dei processi creativi propri, inducendo i ragazzi ad un contesto favorevole alla consapevolezza delle proprie emozioni, dell'identità, delle abilità personali e lavorando sull'autostima. Un laboratorio teatrale che già va avanti già da un po' di anni e che ci sta dando delle belle risposte.